Ciao a tutti sono Ten, oggi gioco con Vita di Slime o Tenshei Shitara Slime Dataken che ce l'ho qua che in giapponese non mi ricordo più è uscito fuori un nuovo banner che mi interessa un po' anche con i libri speciali che abbiamo Shizu o Shizue che c'è la forma bambina e la forma adulta SS penso che hanno appena messo, no non mi ricordo più l'altro banner precedente quella di Natale c'era la doppia S, erano appena S normale no fosse S normale, non mi ricordo più che abbiamo tipo 11 giorni che è appena uscita che ho 3100 di minchioni gialli, ho 17 libri quelli blu e 12 gli altri come detto prima io punto su loro io punto trovare Shizu perchè Shizue perchè mi interessa che nel gioco ti fa combattere qualche combattimento con lei perchè mi piace perchè usa la sua mossa suprima dopo che si pompa penso l'attacco quindi fa anche molto più danni quindi mi interessa come attaccante perchè due toglie due personaggi il ragazzo con il libro se non mi ricordo più il nome e il cane tempesta se non mi ricordo più che cazzo si chiama il cane e lei quello no è Rangan scusate qual è il punto è quello è quello adesso noi facciamo i 10 libri qua che almeno proviamo se troviamo qualcosa di buono se troviamo dammi viola no oro dammi viola dammi oro no viola viola che buono ma non no 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 mi ritengo da parte perchè eh io guarda mi ritengo voglio trovare lei trovare lei anche bambini che non so no lei non è formabile oddio mi confondo non è la ragazzina mi ricordo più non è lei bambina mi ricordo più la ragazzina capito qual è nella seconda stagione mi ricordo più il nome adesso mi ricordo eh mi ricordo eh ok boh vediamo proviamo se riusciamo trovarla eh mi sono confuso perchè assomiglia tantissimo anche io all'inizio nell'anime mi mi sono pensato fosse tipo una giumella di lei cosa del genere ma no è dopo ha spiegato che è una bambina appunto è porca troia ok buono quella che mi manca allora a questo qua non posso ah no non posso non posso scambiarli che bastardi niente allora pensavo fosse potevo scambiare dentro con i minchioni no allora niente ora devo aspettare ok devo aspettare allora spendo sulle ice sugli altri tanto mi farmò questi giorni per libri perchè mi interessa tanto quel punto vuole tanto perchè è un attaccante che potrebbe pomparsi l'attacco che metto insieme con la mia combo eh farò vedere un attimo perchè che non vuole spendere tutti quel punto che non vuole spendere tutti scusate le prendo che mi servo se vuole qua non mi servono non mi servono non mi servono no no quello qua abbiamo il librozzo questo va sempre utile due buoni e tanto posso anche scambiare quel libro quindi spendiamo sugli altri con il viola vi faccio un video più lungo vai tanto posso scambiarli vediamo se mi danno qualcosa a quel punto ok shion è straforte ok ok madonna oh il vecchio 8 vediamo proviamo il vecchio 8 eh si va spendiamo 2.000 ok non ci li ho abbastanza ancora anche che vuole 2.000 ok facciamo uno scambio perchè ho 10 cosi la 10 minchioni il libro quello extra e lo prendiamo allora allora no di qua no sbagliato sbagliato no 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 di qua facciamo tac facciamo i librozzi quelli speciali dammi meno meno oddio 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 è un po' difficile sul rei ma viola no ma dammi una s oh oh ah lui è molto buono per che altro non è troppo la prima coppia così mi fa allora madonna quanta roba quanta bella roba ma quanta bella roba ecco al punto devo farmare devo in pratica devo pullare un sacco di cose intanto buttiamo di qua no qua dell'angolino e vai tutto automatico meno diventa ecco vai qui qua di livello 3 che bene animale bene ora facciamo tolgo lui metto lui e prendo lui che ha 3 e diventa più potente diventa a 4 ok dopo servono ok dopo servono le 3 stelle per fare avvocato lui non lo uso più mai anche non lo uso più anche fatto bene ma non lo uso più allora me lo metto un po' nel culo perchè voi metto quel beniamaro quel più forte quel muovo il muovo quello formà oddio quella più forte che si chiama non formà sebaggio ma la tua parte era la scuola avevo la 2 no quel banner perchè è vecchiotto ho buttato via vecchiotto ho buttato via vecchiotto ho buttato via vecchiotto peccato ho fatto automatico porca proia fa niente fa niente tanto tanto più perché non lo uso neanche voglio farmarli con le S perchè con le S che c'è con le S ah 2 due 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 dai è sempre buona perchè non fa schifo perchè si può congelare è sempre molto buona l'area è sempre molto buona attacco via via diventa S di attacco di spesa IHP più AT200 allora che? allora che? 4 stelle 4 stelle 4 stelle il problema è è tac, tac vabbè poi l'ulbus è non sprecarli tanto sono personaggi che non interessano è quello diciamo a pullata ho fatta, adesso devo solo farmarli ancora a quel punto prima che le devo farmare per bene tac tac, cioè li devo proprio pullarci come un satanato ecco la cosa vuole per benio mauro, mi interessa benio mauro, posso lasciarlo di qua le sto tenendo da parte, prendemi se riesco a prendere un personaggio s, prendo i cosi la, perché c'è, ecco appunto 200 300 quasi quasi appena la bambina, non mi ricordo cosa si chiama, ma stai per 100, bene questo faccio, sono sicuro che ce l'ho, bella domanda, ecco 8000 posso prendere il personaggio s, s, r, or, q, 2, peggio di sta cosa, e basta, adesso noi, diciamo adesso lo so in pratica, diciamo devo farmare perché, devo aumentare le stats dei personaggi, tanto i personaggi che quanto prima non mi, eh, tutte le sue cose, perché le devo solo aumentare, possiamo piano piano aumentare, il libro, ma non neanche quella percentuale, anche questa è un po' poca, eh, trova fatto due o, vabbè con due scato, non so quanto è, ma vi ho mai meno una S, da meno, eh, sono 2000, ma vi manco una 500 code, quindi ci arrivo, quindi ci fermiamo, ho detto prima che tanto, un personaggi si, mi ha dato il vecchio 8, ma, diciamo, non lo utilizzo lo stesso perché, anche se, oddio, si blocca, oddio, adesso sono, 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 ho entrato in nuova, che è sempre un po', con la connessione si blocca, no, che, eh, qualche prima, non, quei nuovi, non le, non le utilizzo, vabbè, li ho anche buttati dentro per aumentare gli altri, tempi, perché c'è un modo schermata nero, dai, dai, ci fermiamo, perché non so perché, mi si è, un po', baggato, fallo, non so se, mi è impallato, un po' così, ci fermiamo, se vi è, vediamo, no, eh, no, eh, quindi ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lasciate quello la e ancora iscriveteci al prossimo video ciao ciao